andrea scusami per la sinistra scusami scusami sto a fare una storia aspetta un attimo aspetta non parlare aspetta un attimo per chi avesse visto per chi avesse visto il il video del mac donald a chiedo umilmente scusa a tutti i ragazzi giovani a tutti coloro con coloro che lavorano di notte e a quei ragazzi di colore che stavano semplicemente portando il pane a casa mi sono bevuto due tre cose e vi chiedo scusa chiedo scusa a tutti va bene palestra fatta la giornata è finita andate in pace metti te una cosa ma perché ma perché ce l'avete tutti col brasile dita ma che può fatto il brasile ma il brasile che può fatto fare lì ma che può fatta la vita non il brasile la vita che va fatto fratelli ooo